Gyananda Gyananda sono bambini, hanno sovvertito le regole dell'infanzia, si sono ribellati. Le montagne dell'Himalaya, i pirastri del cielo, il regno dei Dei. Il nome della città è Malana. C'è una storia di come questa città è arrivata a essere. La città è dicevole che le persone che vivono nel villaggio di Malana sono i decendenti di Alexander the Great. Alcino è venuto tra qualche attenzione, qualche qualcosa che non è vero. Gyananda Oh, hallo, Amanda? Gyananda 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 Gyananda